ok eccoci dove eravamo rimasti ah si che eravamo cominciati ad entrare nella torre come si chiama il rifugio dell'angelo no un altro angelo no ancora quei cessi lì fischia vabbè andiamo andiamo ok eh non so cosa troverai lì dentro ma il condotto porta fino a qui continua a seguirli intesi buona caccia eh buona caccia la che prima ho preso per un boy scout buona fortuna urbu 6 mark 2 porca miseria oh oh mamma mia che mamma mia che hai mangiato un cadavere minchia che puzza mamma mia sta parte la odio perchè è stra difficile spero di farcela ma quanti cacchio sono porca miseria il rifugio è sempre il migliore mamma mia questo qua col bullsai mark 2 fa male cioè ragazzi si la differenza tra bullsai e bullsai mark 2 è solo questa il bullsai spara le spere rosse il bullsai mark 2 è quella viola mamma mia che differenza ecco teniamone un po' per quando arriveranno fischia quante munizioni che ho del reaper vabbè non lo uso da un bel po' 550 porca miseria niente male ok le ho uccisi tutti? oh madonna farai ma anche te cosa fai? mi ricopio mi ricopio mi ricopio cosa fai? mi ricopio ma anche te deve essere rallentatore ora credo che siano morti tutti e dai ma quanti cacchio sono? oh no dove andè? ah no eccolo lì 21 pallatore per splitter spl... splitter? ah lo splitter si io lo chiamo splitter suona meglio splitter perché lancia fiamme bullsai spl... spl... splitter splitter o splitter vabbè chi se ne frega dai non perdiamo tempo col termine tanto è un videogioco mamma mia mamma mia che sto so... che sto so... che sto so... porca misera l'angelo raper ti ammazzo stit fu... 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 Oh yeah, morto! Madonna! Granata, aria combustibile, arrivo! Porca visione sono sopravesitati... Vabbè! Fuoco e fiamme! Fuoco e fiamme! Chi mi ha arrosto per tutti gli strumenti! Ahahahahaha! Questa è la bella! Uuuuuh, vai! Quante dalle munizioni! C'è niente! Andiamo! Forte cacchio! Mi sono rimasti solo 155 munizioni, mamma mia! Sì, sì, perché difficoltà a uccidere un angelo! Mi sono ancora... Ah no, sono tutto al massimo! Mamma mia! Questo posto mi da letteralmente i predifidi! Nooooooo! Mi sentono di quei versi, porca miseria! Eeeh! Salute! Dove sei? Madonna! Oh no! Parla italiano che non vi capisco, porca miseria! Bene! Troppo bello il lancia a fiamme! Eh sì! Oh no! Nooo! Lì che adesso mi riempio di arrostisco le chiappe! Vieni qui! Vieni qui! Che ti ammazzo! Oh! Ecco! Così impargo! Oh! Se sei morto è colpa tua! Se sei un pezzente! Eh! Non è la colpa mia! Oh! Finalmente ho un po' di munizione anche per l'Ailstorm! Così lo ricarico! Allora! Eh! Ecco fatto! Direi che... Sì! Scusate ragazzi! Faccio un controllo! Possiamo andare! Queste parti non saranno facili! Saranno belle difficili! Se avete voi Resistance a casa! Attenti che non è tanto facile! Soprattutto quando fate la prima partita! Guarda! Partita completata! Ah! Non lo so neanche se ce la faccio! Se volete saperlo! È la seconda volta che ci gioco a Resistance! Guardate! Le forze statunitensi sono entrate nella torre! Fate attenzione a quello a cui sparate! Due nocchi sono buoni! Sei cattivi! Ok! Ti ho capito! Ok! Ti faccio di così! Però potresti anche dire chi mi era buoni! Umani cattivi! Chi mi era cattivi! Ma sono buoni! Siamo soldati ma siamo mica scemi eh! Te lo dico! Addio al fattore sorpreso mi ha già mancato! No! L'ho mancato! Madonna! Ce n'è un'altra! Testa di... Vai dal culo! Oh! E porca miseria! Ma non lo so! No! Sono ancora i Spider chimera va! Dove è andato? Lo lo vedo! Ah! Ecco qui! Madonna! Ecco fatto! Ehm... Senti come chiedi! Ehi ah 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 ah! Ma bara via al culo mah! Parla italiano! Perchè non venite qui di fatta pezzare? Prese! E dai fisco! Ancora vivi! Maia! Dove mi è attaccato? no no ecco qua fuori uno ecco la testa fisco che volo c'è qualcun altro? si c'è un altro ora se stai lì ora se mi fai la cordina di star fermo magari riesco a ucciderti con un solo colpo così evitiamo di star qua tutta notte mi fai questo favore? porco giù oh era così difficile bravo oh mi pareva così difficile ma andate a cagare tutti va non mi batterete mai va ok cosa ci aspetterà nella prossima parte?